andiamo avanti io come già questa è la terza lezione di questo studio le vie la via per la terra promessa praticamente il signore mi ha messo in cuore questo studio perché vedendo proprio da dal passaggio dall'uscita degli ebrei verso la terra promessa come voi magari già l'avete letto già avete studiato avete visto che il 99.9 per cento di tutti gli ebrei muoiono nel cammino muoiono di ecchiaia muoiono di vari tipi di morte ma fatto sta che per 40 anni girano e nessuno entra nella terra promessa con eccezione di giosua e caleb neanche lo stesso mosè riesce a entrare nella terra promessa e questa è la condizione non solo degli ebrei ma di tanti tanti cristiani di tante persone nate di nuovo che ricevono il signore che ottengono la salvezza che si battezzano quindi c'è questo passaggio sul mar rosso che arrivano sani e salvi dall'altra parte del mar rosso e il mare si chiude gli egiziani sono inghiottiti però quando arrivano dall'altra parte e inizia davvero lì il cammino in direzione della terra promessa lì si perdono e quindi andando a studiare mi sono voluto vedere perché tanti cristiani oggi come gli ebrei di allora si perdono nel cammino e non riescono a vivere le benedizioni perché è scritto che noi siamo già benedetti con ogni sorta di benedizione nei luoghi celesti allora perché io non riesco a prendere queste benedizioni e portarle nella mia vita perché vivo una vita mediocre una vita affannata una vita nel dolore una vita che mi succede di tutto e non riesco a far fronte e quindi vedendo loro cominciate a tirar fuori questo studio la via per la terra promessa abbiamo visto che sicuramente una cosa importante per arrivare alla terra promessa è un cuore integro e c'è lo studio e la seconda cosa molto importante era la bocca io ho scritto il titolo lode ma non lode di lodare di canto ma perché il contrario di mormorare è lodare cioè invece di lamentarti è esaltare il signore e la terza parte quindi oggi vediamo la presenza per arrivare nella terra promessa per arrivare nella terra di cana che dio ci ha promesso è fondamentale la sua presenza vediamo il primo versetto perché io parlo di presenza perché mi baso su questo versetto che trovo in esodo mose allora gli disse se la tua presenza non viene con me non farci partire da qui il momento storico in cui lui dice questo è quando lui stava nel montesinei riceve le tavole intanto sotto fanno macello e creano il vidello d'oro quindi lui scende deve intercedere è tutto un passaggio che voi già conoscete potete andare a leggere e e mosè comincia a intercedere dice la tua presenza deve andare con noi non solo con me perché al versetto prima al 14 non l'ho segnato stranamente ma esodo 33 14 se avete la bibbia dice l'eterno rispose la mia presenza andrà con te ti darò riposo mosè allora gli disse se la tua presenza non viene con me non farci partire da qui quindi sembra perché lo ripete mosè se gliel'ha detto un secondo prima a dio che la mia presenza verrà con te perché il signore usa il verbo ebraico al singolare a te la mia presenza verrà proprio con te invece mosè risponde se la tua presenza non verrà con noi perché il verbo è al prurale deve venire con noi non solo con me perché questo popolo è il tuo popolo e la presenza di dio è fondamentale per arrivare alla terra promessa sembrerebbe logico cavolo certo senza la presenza di dio come arriva alla terra promessa sembra logico ma nulla è la presenza di dio è fondamentale per arrivare nella terra promessa la parola presenza in ebraico è panim panim e pan vuol dire volto panim è il prurale e faccia sono i volti e con la preposizione vuol dire di fronte a davanti a in presenza di di fronte al volto di cioè la presenza del signore di fronte al volto del signore e questa parola panim quindi presenza io la incontro la prima volta in genesi al versetto al capitolo 3 dove vediamo eh Adamo che ha peccato e dice poi udirono la voce dell'eterno dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'eterno dio fra gli alberi del giardino allora spero che non sentite il cane che abbaia e dia fastidio la presenza di dio la parola presenza entra per la prima volta quando c'è l'allontanamento quando c'è la il nascondersi dalla presenza perché la presenza di dio è già scontata l'io è lì l'io è presente dio passeggia la brezza del giorno ogni giorno con con Adamo ma a un certo punto con il peccato la prima cosa che succede la prima cosa che succede che si nascondono dalla presenza del signore la presenza di dio è già lì è ovvio che stia lì c'è nel versetto 1 del capitolo di genesi bereshit bara elohim nel principio dio creò dio è già lì il problema inizia quando ci si nasconde dalla sua presenza e ed è un'evoluzione ci si nasconde dalla presenza ma non finisce lì perché si evolve fino al punto di allontanarsi basta andare a vedere subito dopo genesi il 4 16 dove dice allora gaino si allontano dalla presenza dell'eterno e dimorò nel paese di notte est di chiede quando ci si allontana quando ci si quando si pecca la prima cosa che viene da fare istintivamente che Adamo mi insegna male ma mi insegna e che ti nascondi il problema è che non rimane lì perché una volta nascosto la cosa si evolve e peggiora fino al punto di allontanarsi completamente dalla sua presenza il fatto che dio sia ovunque in ogni luogo non significa che noi stiamo alla sua presenza o che camminiamo in modo degno della sua presenza ve lo ripeto il fatto che dio è onnipresente che stia in ogni luogo quindi lui è presente in ogni luogo non significa che io stia camminando alla presenza di dio e in modo degno della sua presenza perché posso dire questo perché in genesi 17 al versetto 1 dice quando abramo ebbe 99 anni l'eterno gli apparve gli disse io sono l'iddio onnipotente e sarebbe el shaddai cammina alla mia presenza e si integrò cammina alla mia presenza e si integro segnate genesi 17 1 allora la traduzione interessante sono andata a vedere la traduzione che la torà fa di questo passaggio in italiano sull'app sefaria quando si vede la parte in ebraico e poi c'è la traduzione in inglese e loro traducono non cammina la mia presenza ma lo traducono con cammina nelle mie vie abramo gli chiede io sono l'el shaddai quindi colui che è autosufficiente sufficiente in se stesso cammina nelle mie vie e si integro cammina nelle mie vie in genesi in giovanni 14 vi do un po di versetti poi sapete come faccio io io metto tutti gli ingredienti e poi preparo il piatto gesù disposto gli disse se uno mi ama osserverà la mia parola il padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo rimora presso di lui averlo sempre nella nostra vita far sì che il nostro essere diventi casa di dio è possibile quando io cammino nelle sue vie e quando osservo la sua parola allora qualcuno potrebbe dire vabbè ma dio ci ama comunque sì dio ci ama ma non è questo il problema la questione è come se noi rispondiamo a questo amore perché se il suo amore è sparso in noi allora noi possiamo amare e se noi amiamo allora sarà semplice per noi osservare la sua parola camminare nelle vie del signore stare in presenza di dio vuol dire camminare nelle sue vie averlo non è lui che è con me ma sono io che sto in sua presenza non è lui che sta in mia presenza lui sta ovunque sempre e comunque ci guarda ci osserva e ci ascolta e non è il problema di lui che non mi che non mi sente sono io se sto o meno camminando alla sua presenza sto camminando alla sua presenza sto camminando nelle sue vie come cammino nelle sue vie osservando la sua parola perché posso osservare la sua parola perché lo amo perché lo amo perché lo amo perché è scritto che il suo amore è sparso dentro di noi è scritto in prima giovanni noi lo amiamo perché egli ci ha amato per primo in genesi 39 c'è un versetto questa è la parte di giuseppe che dice egli rifiutò questo è il momento in cui giuseppe viene attaccato dalla moglie di potifar che tenta di sedurlo e lui rifiuta e dice egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone ecco il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto va egli non mi ha probito nulla tranne te perché sei sua moglie come dunque potrei fare questo grande male e percare contro Dio e Giuseppe ha camminato tutto il tempo nelle vie del Signore Giuseppe ha camminato tutto il tempo nelle vie del Signore e il Signore l'ha fatto passare di fase in fase ma lui in tutte queste fasi è sempre stato fedele è sempre stato attento non è stata mai registrata una murmurazione di Giuseppe quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti il suo cuore integro e la sua lingua si vedono in Giuseppe è veramente una persona integra che ha tenuto a freno la bocca non è registrata una lamentela, una murmurazione non è registrato perché Dio, perché Dio a me ma ha sempre camminato nelle vie del Signore in presenza del Signore il Signore l'ha sempre benedetto a un certo punto quando è arrivato il male quando è arrivata la tentazione di questa donna quando questa donna sicuramente è bella cercando di attrarlo lui dice questa frase che abbiamo appena letto come dunque potrei fare questo grande male per peccare contro Dio ma l'affermazione non la dice per paura non la dice perché ha paura dell'inferno la dice perché poco prima l'abbiamo letto perché lui si rende conto che il Signore l'ha benedetto questo Potifar gli ha lasciato tutto nelle mani ha messo tutto nelle sue mani non c'è nessuno più grande di me dopo Potifar quindi lui è consapevole della presenza e della benedizione di Dio allora lui dice come potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio Giuseppe non resiste a questo peccato per paura del giudizio ma perché era consapevole che Dio è sempre stato con lui e ha risposto all'amore di Dio con il suo amore ripeto come scritto in Giovanni noi amiamo perché lui ci ha amato per primo noi possiamo amarlo perché lui ci ha amato per primo in questi tre mesi chi non lo sa perché è la prima volta che si collega perché è la prima volta che vede il video su YouTube registrato in questi tre mesi a capo di Volver sono appena tornata non mi veniva sono appena tornata da tre mesi in America Latina e abbiamo fatto veramente tante esperienze tante persone tantissime chiese e con il lavoro di dei marchi in Kadì con il suo lavoro di guarigione e liberazione ho avuto l'opportunità e l'onore di oltre che ministrare la loro ma anche di ministrare le persone e ho ministrato persone che dicono di amare Dio che però si trovano prigioniere delle loro stesse scelte non avanzano nel regno non fanno la differenza e sono entrate pericolosamente in una routine cioè routine intendo ministri che fanno sempre le stesse cose che hanno perso il senso del perché le stanno facendo ministri di lode perché avendo avevamo ogni fine settimana c'era almeno due, tre a volte arrivata anche a quattro conferenze e quindi io ho conosciuto il mondo di ministri di lode ma c'erano conosciuto purtroppo ministri di lode che sono entrati in questa routine che arrivavano un'ora prima la domenica mattina che si fa le prove due canzoni veloci due canzoni lente e via si sveglia la mattina si ringrazia per il cibo si va al lavoro si prende nei figli a scuola si ritorna a casa si sistema e la domenica quando va bene si va in casa e tutto ricomincia da capo e questa è una routine e quando hai programmato in modo sistematico e preciso la tua giornata tanto in chiesa come in casa mi chiedo ma c'è spazio per lo spirito di Dio c'è spazio perché lui possa rivoluzionare quella giornata che tanto sistematicamente hai organizzato a lui davvero il controllo della tua giornata può a lui davvero entrare e dirti guarda oggi fai questo oggi non andare al lavoro oggi vai a casa di quella persona e spendi tempo con lei perché il Signore sa che quella persona magari ha pensieri di morte ha la possibilità di fare questo il Signore o siamo entrati in una routine tanto sistematica che c'è difficile uscirne all'inizio del nostro viaggio quando c'era ancora tutto il gruppo dell'Italia siamo andati a visitare una chiesa molto molto grande molto bella mamma mia una chiesa so c'era 5.000 6.000 6.000 membri una chiesa nuova molto bella e il conto inizia come da copione quindi c'è il gruppo di Lode che inizia a cantare molto professionale loro hanno anche uno studio per registrare le loro canzoni in tutto nella tecnica negli strumenti eccellente veramente ben organizzato ma mentre loro ministravano questa Lode mentre loro cantavano mi è salita dal cuore questa domanda se lo spirito volesse rompere questa scaletta così precisa ne avrebbe la libertà? non lo so mi sembra di no perché è tutto estremamente calcolato tutto estremamente organizzato camminare nelle sue vie camminare nella sua presenza che vuol dire? perché è importante la presenza di Dio? perché io non posso svegliarmi la mattina e uscire senza avere la certezza come dice Mosè se la tua presenza non viene con me non ci far partire da qui non mi far uscire non voglio neanche arrivarci alla terra promessa senza di te perché non è la stessa cosa perché neanche ci arriverò alla terra promessa senza di te e quindi che vuol dire? allora mentre preparavo questo studio mi è venuto in mente il GPS del navigatore non è un esempio religioso però è calzante allora in questi tre mesi ci siamo divertite perché più o meno perché Google Maps o Waze l'altra applicazione è diventato il nostro guru è diventato vitale il Waze abbiamo girato talmente tanto specialmente in Costa Riga perché Martina aveva una macchina era stata data una macchina quindi potevamo andare di chiesa in chiesa di città in città e qui i mezzi non c'è il treno quindi per forza per spostarti di avere una macchina e noi chi conosce la Costa Riga e quindi per noi Santo Waze o Santo Google Maps che ci ha che ci ha aiutato abbiamo girato tantissime tantissimo in tante città e senza il navigatore come avremmo fatto allora che fai come fai con il navigatore tu metti la destinazione vedi il punto di partenza ti metti il tracciato e tu che fai ti affidi perché tu hai la certezza hai la fede che quello è il percorso corretto e quindi lo segui girare a destra tra 300 metri prendere la prima a sinistra e tu lo fai perché tu vuoi arrivare dall'altra parte tu puoi arrivare a destinazione quindi per forza devi seguire il navigatore ci siamo sbagliati qualche volta e questo succedeva ogni volta che ci distraevamo soprattutto io se io mi distraevo e non ero io che guidavo arrivavo da un'altra parte ci allontanavamo un po' dal percorso segnato quindi dovevi ritornare indietro o in qualche modo riprendere la strada giusta allora con il navigatore che cosa fai sei attento ascolti quello che ti dice tra 300 metri svoltare a sinistra devi ubbidire che se non giri a sinistra arrivi da un'altra parte e devi essere costante fino alla fine devi seguire il navigatore ti sembra non religioso questo versetto ma pensaci pensaci perché è la stessa cosa con Dio questo serve per camminare alla sua presenza io devo sentire io devo ascoltare dove lo spirito vuole che io vada camminare alla sua presenza camminare nelle sue vie io non posso svegliarmi e fare sempre di testa mia perché fare di testa mia è girare a sinistra quando il navigatore ti manda a destra c'è un versetto che capi proprio a Cece che è Isaia 30-21 che dice quando andrete a destra o quando andrete a sinistra leute orecchie udranno dietro di te una parola che dirà questa è la via camminate in essa ti giuro stavo pensando al navigatore e poi mi sono ricordata di questo versetto vedi la Bibbia rispalda quello che sto dicendo quando vai a destra quando vai a sinistra le te orecchie udranno dietro a te una parola che dirà questa è la via cammina in essa questa è la via cammina in essa io devo sentire dove lo spirito mi sta mandando io lo devo ascoltare perché se lo spirito per esempio il navigatore ti fa il percorso più veloce il navigatore è fatto da non mi inganno magari con eresia però dai satelliti e loro sanno riescono a vedere se c'è un incidente quindi da dove sto io io non lo so che tra 20 km c'è un incidente ma il navigatore lo sa e quindi ti fa fare un percorso alternativo magari un po' più lungo però a causa dell'incidente ci metti di meno ecco Dio che è onnisciente lui lo sa che non ti fa fare il tragitto così come non l'ha fatto fare agli ebrei perché come abbiamo visto l'altra volta il tragitto dal monte dall'Egitto fino a dove dovevano andare loro in Tredicana ci si metteva pochissimo però lui dice non voglio che se passano per la terra dei filistei a motivo della guerra ritornino indietro quindi io fai un giro un po' più lungo perché lo sapeva lo sapeva che preferisco farti allungare ma fartici arrivare che farti fermare lì e magari io riesco che torni indietro il Signore lo sa magari per te non ha logica perché ti sta facendo fare quel cavolo di percorso che ti sembra più lungo più faticoso pieno di pietre non riesci a capire perché è quella via perché tu nella tua testa no ma io so io conosco quest'altra via io lo so che questa via è più veloce ma chi se ne importa la velocità l'importante è arrivarci e arrivarci bene e arrivarci guidati dal Signore perché il Signore lo sa che facendo quell'altro percorso tu farai delle esperienze conoscerai delle persone che altrimenti in questo percorso non avresti conosciuto e ti fortifica quindi fidati 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 se io non passo tempo nella parola se non passo tempo nel pregare nel pregare lingue ma che cavolo sto ascoltando se io non spendo tempo a leggere a meditare a riflettere a pregare a riempirmi di spirito attraverso salmi canni canti spirituali a chi sto sentendo a me alla mia carne al telegiornale ai social media che mamma mia misericordia ai miei amici alla mia famiglia io sto ascoltando tutti tranne Dio ti ascolto tutti tranne Dio perché Dio non sta sì sì Dio sta ovunque ma Dio ti parli principalmente attraverso la sua parola se non hai tempo per stare alla sua parola e per pregare non hai acceso il navigatore devi andare intuito e più delle volte si sbaglia e c'è il profeta Elia che fa un'affermazione fighissima in Prima Re capitolo 17 e dice così Elia il Tishbita uno degli abitanti di Galad di Sadagab questo è quando lui profetizza la siccità com'è vero che vive l'Eterno il Dio di Israele alla cui presenza io sto non ci sarà ruggiata né pioggia in questi anni se non alla mia parola e lo rileggo com'è vero che l'Eterno il Dio di Israele vive alla cui presenza io sto e poi profetizza quanti di noi sono fare con audacia questa affermazione com'è vero che l'Eterno Dio come vive l'Eterno Dio il Dio di Israele alla cui presenza io sto avendo capito che stare alla presenza di Dio vuol dire camminare nelle sue indie obbedire amarlo rispondere a quest'amore obbedendo quanti Dio ne posso dire io sto alla presenza di Dio non che Dio sta alla tua presenza ma che tu stai davanti a Lui leggiamo seconda capitolo 17 seconda re capitolo 17 allora dal versetto 7 vi leggo un po' di versetti e vedete con me questo avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro l'Eterno il loro Dio che li aveva fatto uscire dal paese dell'Egitto liberandoli dal potere del faraone e del reggio Egitto e avevano riferito altri dèi essi avevano seguito le usanze delle nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele quelle introdotte da re di Israele inoltre i figli di Israele avevano fatto in segreto contro l'Eterno il loro Dio cose non giuste come si fa a fare una cosa in segreto e si erano costruiti altri luoghi in tutte le loro città dalle torri di guardia alle città fortificate avevano eretto per sé colonne sacre e ascerim su ogni alto colle e sotto ogni albero verdeggiante e là su tutti gli altri luoghi avevano bruciato incenso come avevano fatto le nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti a loro e avevano commesso azioni malvagie provocando a dire all'Eterno avevano inoltre servito gli idoli cioè guardate è una cosa abominevole intorno ai quali l'Eterno aveva loro detto non fate una simile cosa eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti dicendo tornate indietro dalle vostre vie malvagie osservate i miei comandamenti i miei statuti secondo tutta la legge che io prescrissi a vostri padri e comandata a voi per mezzo dei servi profeti ma essi che dice qui non prestarono ascolto e indurirono il collo non prestarono ascolto come l'avevano indurito i loro padri che non ebbero fede nell'Eterno il loro Dio e rigettarono i suoi statuti e il patto che gli aveva stabilito con i loro padri gli avvertimenti che gli aveva loro dato perciò seguirono cose vane diventando fatui essi stessi e andarono dietro le nazioni che li circondavano che l'Eterno aveva proibito di imitare così essi abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno il loro Dio si fecero due vitelli ecco che ritorna Uvetel di metallo fuse e pesero una scena e adorarono tutto l'esercito del cielo e servirono Val fecero passare per il fuoco questa è una cosa abominevole i loro figli e le loro figlie praticarono la divinazione interpretarono presaggi e dietro a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno provocando la tira guardate che dice qui per questo l'Eterno si addirò grandemente con Israele e lo allontanò dalla sua presenza non rimase se no la sola tribù di Giuda per questo l'Eterno si addirò grandemente contro Israele e lo allontanò dalla sua presenza abbiamo confrontandomi con alcune persone mi sono resa conto che abbiamo un'idea molto romantica di Dio molto romantica Dio ama tutti Dio mi ama incondizionatamente Dio mi ama così come sono sì Dio ti ama così come sei ma non ti lascia così come sei Dio ti ama così come sei e per arrivare a Dio non devi chissà fare chissà cosa tu puoi arrivare a Dio nello stato in cui stai e Dio ti prenderà nello stato in cui stai una volta che arrivi a Dio lui cambia le tue vesti con vesti di giustizia lui fa in modo che la sua parola rinnovi la tua mente il tuo spirito sia rinnovato rigenerato in Cristo ti toglie il cuore di pietra e ti mette il cuore di carne quindi facci col cuore di pietra ma lui non te lo lascerà di pietra ti metterà il cuore di carne chi mi ama osserva le mie parole e la parola che udite non è mia ma è del padre che mi ha mandato questo è quello che dice l'amore per Dio che misere l'amore per Dio io so che posso amarlo io so che posso amarlo perché è scritto vediamo un po' ve lo faccio leggere Romani 5.5 la speranza non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato l'amore la speranza non confonde l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori io so che posso amare Dio io so che posso rispondere a quest'amore e rispondo a quest'amore e lo dimostro amandolo e amandolo ubbidendogli questo è amore non è io ti amo signore perché altrimenti non avrebbe senso quando quegli uomini vanno a Gesù gli dicono signore signore nel tuo nome abbiamo fatto questo questo e quest'altro e lui dice allontanatevi da me voi operatori di iniquità perché se io ho fatto quello che si può fare per il tuo nome perché l'amore per Dio viene manifestato già sparso in noi si manifesta perché io gli ubbidisco e per ubbidire io devo conoscere la sua volontà ma non c'è alternativa cambiate religione se vi sa fatica legge la parola se ci sa fatica a pregare cambiamo religione ce ne stanno tante che non dobbiamo fare niente ma questo Dio Dio Onnipotente vuole che io lo servo conoscendolo e non si glori il ricco nella sua ricchezza nel forte nella sua forza ma se c'è qualcosa per cui ti devi gloriare gloriati in questo di conoscere che io sono Dio questo è quello che lui vuole più di tutti che lo conosciamo e che mettiamo in pratica la sua volontà in Salmo 23 è un versetto che molti conoscono dice così e leggetelo bene leggiamolo bene quando anche camminassi quando anche non è detto che ci camminerai ma quando anche camminassi nella valle dell'ombra non nella valle della morte nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun male perché tu sei come il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte quindi la prima cosa che io mi dovrei chiedere è una cosa che bisogna assolutamente fare quando si legge la Bibbia è fermarsi e farsi le domande quelle giornalistiche si chiamano chi come quando dove perché leggi e fatti le domande perché quando ti fai le domande automaticamente vai in cerca di risposta e la trovi perché Dio dice mi cercherete e mi dovrete se mi cercherete con tutto il cuore la prima cosa da domandarsi è perché tavolo sto nella valle dell'ombra della morte come io sono arrivata a camminare nella valle dell'ombra della morte la prima cosa è dovresti fare perché non ti ci ha portato il Signore il Signore può sì averti portato nel deserto come ha portato Gesù a camminare nel deserto ma c'è un motivo e c'è una vittoria alla fine e non c'è mancanza perché anche se gli ebrei passano nel deserto non c'è nessuna mancanza c'è il fuoco di notte c'è la nuvola di giorno c'è l'acqua che scende dalla roccia c'è la manna del cielo c'è di tutto nel deserto quando ti manda Dio non ti manca nulla ora però se stai camminando nella valle dell'ombra non della morte dell'ombra e della morte la prima cosa da fare è chiedersi perché cavolo ci sono arrivata e c'è un versetto che Martin ripete sempre e che sta in ecclesiaste che dice nel giorno della prosperità si allegro nel giorno dell'avversività piangi distruggiti mormora chiediti perché il signore se n'è andato si è allontanato nel giorno dell'avversività rifletti medita nel momento del dolore pensa ma non pensare con questo pensare che ti distrugge perché io mi sono abbandonato tipo Giuseppe i fratelli mi hanno buttato in un polso e poi mi hanno venduto e poi mi hanno messo in carcere rifletti rifletti nel giorno dell'avversività rifletti ok c'è qualcosa ci sono arrivata attraverso le mie scelte ci sono arrivata perché ho fatto le scelte sbagliate perché ho scelto le persone sbagliate ok a un certo punto però intanto capisci che è un'ombra è la valle dell'ombra quindi non è la morte non è reale è momentaneo è parziale e come arriverà la luce? a seconda della luce l'ombra sfugge ma soprattutto arriva la cosa più importante di tutte quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun male perché perché tu sei con me capiamo che se io mi trovo in quella valle non è per colpa di Dio non mi ci ha portato lui ma è motivo delle scelte o scelte di altri purtroppo mi sono ritrovata in questa situazione ma la cosa importante è che Dio è con te la sua presenza il suo amore la sua correzione il suo aiuto Dio è con te è la consapevolezza che non sei solo perché se sei nato di nuovo se sei ripieno del suo amore se sei ripieno del suo spirito la sua presenza è con te adesso tu devi stare nella sua presenza tu devi camminare nelle sue vie come si entra nella terra promessa solo con la presenza di Dio come sono certa che sto alla presenza di Dio quando cammino nelle sue vie perché posso camminare nelle sue vie perché il suo spirito è me e mi guida perché il suo amore è me e io posso obbedirli io so di stare dalla presenza di Dio io posso dire come Lia e non in maniera arrogante ma io so che sto alla presenza di Dio perché ogni giorno o meno ogni giorno ma io mi fermo e faccio un check mi fermo e controllo se quello che sto facendo è nella volontà di Dio perché anche se il tempo è scuro anche se le avversità ci sono io mi fermo e dico signore sto al centro della tua volontà sto facendo quello che tu mi chiedi o sto facendo di testa mia o sto reagendo a testa mia come faccio a sapere qual è la tua volontà raga mi ripeto riempendo di spirito parlando in lingue tanto cantando lodando il Signore leggendo meditando riflettendo camminando nella sua parola costanza e disciplina se non hai tempo per questo se non hai tempo perché come nella parabola del seminatore le spine crescono e soffocano quindi le avversità i problemi della vita ti stanno soffocando e ti stanno distraendo tesoro mio Dio ti amerà comunque se sei figlia sicuramente andrà in cielo lui ti ama a prescindere ma nella terra promessa non ci entri non berrai latte e miele non vedrai quei grandissimi grappoli di uva che caricavano le spie non potrai fare la tua terra non potrai essere benedetta e vivere le benedizioni che il Signore è già conquistato è questo che mi fa e già ci sono che sono tutti lì e io devo solo prendere e c'è solo un modo per prenderle che è la fede e la fede viene solo dall'udire o dire la parola e metterla in pratica se non ho tempo per fare questo amen fratello e sorella amen il Signore ti chiamerà lo stesso andrà in cielo ma certamente vivrai non ti dico un inferno in terra ma quasi perché dovrai fare scelta da sola perché andrai avanti da sola perché tu non sentirai non sarai sensibile alla voce dello spirito perché non ti sei allenata perché il navigatore ti dice ad andare a destra e tu ti ostini ad andare a sinistra perché il navigatore magari ti dice fermati un secondo che c'è l'autovelox fermati che c'è il semaforo e tu no continui dritta ah no Signore camminare alla sua presenza è fondamentale per entrare nella terra promessa perché il cammino lo conosce lui non è detto che sia il più veloce ma è certamente quello corretto perché lui sa che in ogni passo c'è la sua benedizione e ci arrivi e ci arrivi e finalmente potrai riposare gloria a Dio alleluia alleluia questo era il mio messaggio di oggi spero veramente di aver fatto riflettere pregateci pensateci perché i tempi si stanno accorciando e io ho tanto da fare tu hai tanto da fare tu hai una missione su questa terra arrivaci arrivaci la terra promessa arrivaci con grazia arrivaci come Giosuè e Caleb arrivaci guardando la lingua arrivaci con un cuore integro arrivaci non allontanandoti mai dalla presenza di Dio perché Giosuè stava sempre vicino a Mosè sempre quando Mosè entrava nella tenda Giosuè l'arriva vicino e quando Giosuè ha preso il comando il Signore gli disse come io sono stato con Mosè così starò con te e Giosuè non si è allontanato alleluia ed è arrivata la terra promessa possiamo arrivarci? sì non dipende da Dio dipende da noi dipende dalla nostra sensibilità dipende da quanto lo vogliamo e dipende da quanto siamo obbidenti non abbiate paura la Bibbia non è un libro strano o struso o difficile la Bibbia è scritta da uno spirito straordinario e l'autore della Bibbia è vivo e quindi lui ti aiuterà mandando maestri dando ti rivelazione per capirli per darti illuminazione ma se il demonio riesce a convincerti che è pesante che è noiosa che c'è di meglio da fare che devi fare la patrice che devi andare a prendere tuo figlio a scuola è figlio mio quello che semini quello raccoglie ma se invece ti fermi e dedichi tempo di qualità al Signore tu ne mangerai i frutti non Dio Dio continua a essere Dio e mangi tu sono frutti deliziosi frutti deliziosi una terra dove scorre latte e miele quindi vi esorto in nome di Gesù di cercare di continuare a camminare in presenza di Dio camminate nelle sue vie non è sempre facile ma è assolutamente possibile che Dio vi benedica in abbondanza e ci vediamo alla prossima lezione su come entrare nella terra promessa Shalom Shalom e Diovi benedica e Diovi benedica